Ragazzi, ma siete in 15? Fate un applauso dai, fate un applauso, gli fate tenerenza, ma la mamma non ti ha insegnato di fare il dito medio e il maleducato? Vai a fare volontariato invece di rompere le palle, dai vai, vai ad assistere qualche anziano, qualche disabile, eh mamma mia, è proprio, è la differenza culturale, perché penso che a nessuno di voi, se ci fossero qua Renzi o Di Maio Zingaretti, penso che nessuno di voi verrebbe qua a insultare, al massimo ve ne state a casa, uno l'ignora, è proprio la differenza di educazione e sono orgoglioso dell'educazione di questa piazza e vi mando un bacione. Grazie